Disciplina, etica, voglia di misurarsi anche con l'avversario, ma sempre rispettando l'avversario. Katia Serra, Ciro Ferrara e il fratello Vincenzo, intervistati dal giornalista Scare e Sandro Alciato, sono stati i protagonisti della giornata inaugurale di Calciotto, il nuovo trofeo di Calciotto, nell'ex complesso dei Salesiani, organizzato dai giovani della diocesi di Fenza Modigliana. Prima un triangolare con in campo anche le vecchie glorie dell'Orsa, poi la cena e l'asta di beneficenza per sostenere la fondazione Cannavaro Ferrara in aiuto dei bambini di Napoli. E infine il calcio d'inizio del torneo vero e proprio che per quasi un mese animerà la nuova area sportiva dei Salesiani riqualificata da Fenza Sales. Fra i due momenti della giornata un incontro pubblico animato dai tre ospiti, incentrato su rispetto, impegno e valori dello sport. Si punterà ovviamente sul lato umano dello sport, su cosa ci sia oltre il calciatore, oltre la calciatrice, perché tutti siamo abituati a vedere i gol in campo, a vedere le belle azioni di gioco, però per arrivare a quelle azioni di gioco ci deve essere una persona, una persona con dei valori, una persona con un'umanità spiccata ed elevata e di questo parliamo. Per una donna è difficile, sì. Per una donna è difficile, ha maggior ragione nel mondo del calcio, a prescindere dal ruolo, dove chiaramente è un ambiente che è sempre stato chiuso e allora per ottenere qualcosa il sacrificio è tanto, penso che si è visto al mondiale e se gli italiani ci sono innamorati delle ragazze è perché al di là della loro qualità hanno visto in primis l'impegno e il sacrificio e la passione che animava queste ragazze nel dare tutto loro stesse. Quindi ti confermo che da donna purtroppo è ancora così e chissà, forse sarà così a lungo, di sicuro è un problema culturale che si cerca tutti insieme, anche con l'aiuto degli uomini sensibili e consapevoli di cambiarlo prima o poi perché è anche abbastanza difficile riuscire a resistere e la resilienza non a caso è un termine molto diffuso tra noi donne se si vuole emergere. Come si possono invece trasportare questi valori dal campo a fuori il campo? Con le esperienze che ognuno di noi ha vissuto fondamentalmente e quindi credo che anche in qualità ormai di genitore, di tre figli insomma, cerco di dargli dei giusti valori, cercando sempre di avvicinarli allo sport ma potrebbe essere lo sport come qualsiasi altra forma d'arte e qui mi dicono che c'è anche una struttura che insegna musica, quindi qualsiasi tipo di attività che possa distogliere e possa dare un'opportunità ai nostri ragazzi è sicuramente ben fatto. Questa sera la giornata si concluderà con una raccolta fondi per la fondazione sua e della famiglia Cannavaro. Di che cosa vi occupate esattamente con la fondazione? La nostra fondazione si occupa di ragazzi soprattutto nella mia città, quindi a Napoli, di ragazzi in difficoltà che possono essere difficoltà sociali, difficoltà di inserimento, problemi di malattie e via dicendo quindi vuole essere vicina sicuramente ai ragazzi della mia città e quindi siamo contenti di essere qui ovviamente e di portare insomma quella che è la nostra esperienza e il nostro messaggio. Torneo di calcio maschile ma ci sono anche due squadre femminili, a questo torneo si inizia a vedere la scia di questi mondiali di questo successo del calcio femminile in tv. Potrei anche dirti finalmente perché sono in questo ambiente da una vita e adesso è bello vedere come il mondiale ha lasciato tanto entusiasmo nelle persone e sta dando anche spinta alle ragazze di cimentarsi, di buttarsi, di iniziare a giocare e vedo che molto spesso nelle organizzazioni si cerca di accoglierle e questo secondo me è un aspetto fondamentale perché magari le ragazze c'erano anche prima ma non sempre trovavano facilità e opportunità. Come si è vissuto da pioniera di questo sport in Italia? Ma sai sono da un lato molto contenta per tutto quello che è stato raggiunto perché l'abbiamo inseguito da tempo e noi purtroppo non abbiamo vissuto il calcio che c'è oggi ma ciascuno di noi con la sua esperienza e con le proprie iniziative ha sicuramente dato un contributo affinché si arrivasse alla situazione di oggi. Poi io scherzo sempre e dico mannaggia la mia mamma mi ha fatto troppo presto, mi ha messo al mondo troppo presto oggi vorrei essere una bimba avere dieci anni e vivermi il calcio come finalmente anche le ragazze riusciranno a vivere come i propri amici maschi. Non si torna indietro e adesso si cerca solo di continuare a spingere affinché il mondiale sia solo il primo passo di un cammino sempre più gratificante. Si dice sempre che hai più la testa a fare il campione che il corpo. Sì, se togli lo 0,001% cioè Leo Messi che nasce Leo Messi per quanto riguarda il resto ci vuole grande testa per arrivare a determinati livelli e poi in realtà anche Leo Messi per restare dov'è deve lavorare con la testa deve avere dei valori perché uno può nascere campione ma poi per rimanere campione deve esserci dentro e dietro molto altro. Poi c'è lo sforzo di passare alla vita di tutti i giorni, cosa che Ferrara e Serra hanno fatto e quello è difficile per un campione. È difficile relativamente, è difficile se non ti sei preparato oppure se di valori nei pochi o non ne hai del tutto se invece hai sempre riconosciuto il valore del mondo esterno e poi il mondo del calcio è un mondo dorato è un mondo di privilegiati ma lo dico in senso assolutamente positivo dicevo se ti sei preparato prima è un po' meno difficile se invece non ti prepari certo il passaggio diventa molto arduo però stiamo parlando di due persone di Ciro Ferrara e di Catia Serra invece che a livello di testa irano, restano e saranno dei campioni e quindi per loro questo passaggio non è stato così difficile. è un po' meno difficile.